Lunedì 26 giugno dal Vangelo secondo Matteo Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello La parola di oggi è una parola molto semplice ma altrettanto acuta e tagliente Non giudicate Gesù non ci gira tanto attorno Non giudicare E quanto è difficile vivere questa parola perché esprimere i giudizi è una cosa abbastanza spontanea Però dobbiamo distinguere una constatazione da un giudizio La constatazione è dire che una cosa è nera o una cosa è bianca Il giudizio è aggiungere a una constatazione la propria opinione E quindi ci accorgiamo allora che a volte il giudizio è un spingerci oltre Andare oltre ciò che accade, oltre quella persona e metterci dentro il nostro modo di vedere le cose e quindi di giudicarle Se da una parte ci rendiamo conto che è quasi impossibile non giudicare Dall'altra parte però Gesù ci ammonisce Che è importante avere un certo tipo di misura Con la misura con la quale giudicate Con la quale misurate sarà misurato a voi E sappiamo come Gesù ci ha insegnato a misurare le cose con la misericordia Il suo sguardo nei confronti dell'uomo e quindi nei confronti di te, di me, di ognuno di noi È sempre uno sguardo pieno e ricco di misericordia Allora questo potrebbe essere il criterio con il quale guardare le persone, guardare i fratelli, le sorelle E guardare anche la realtà Cioè guardare sempre con tanta tanta misericordia E la misericordia non significa che tutto va bene, tutto è lo stesso Ma sì intanto poi le cose cambiano No no, la misericordia è partire da uno sguardo di amore Di un amore totale Di un amore integrale Di un amore che è capace di donarsi fino in fondo Ci rendiamo conto che Quando cominciamo ad avere uno sguardo di misericordia Non potremmo mai tagliare completamente con qualcuno O con qualche dimensione, perché? Perché la misericordia lascia sempre una porta aperta Del resto, se noi ci pensiamo come Vorremmo essere trattati Come vorremmo che gli altri ci guardassero E anche Dio ci guardasse Ecco, speriamo sempre con tanta misericordia Perché quando constatiamo le nostre miserie, le nostre debolezze Imploriamo tanta misericordia Da parte di Dio e da parte dei fratelli Allora questa parola che sembra essere un divieto Quasi irrealizzabile In realtà è un grande ammonimento a una vita di misericordia Raggiunti da questo sguardo del Padre Che si è fatto carne nella persona di Gesù E che attraverso lo Spirito Santo possiamo vivere in pienezza È lo stesso sguardo che siamo chiamati ad avere Nei confronti di chiunque incroci il nostro cammino di vita Grazie a tutti